L'ingegner Marcello Creti nasce a Roma il 16 aprile 1922. Sin da bambino cade in stato di trance, dettando formule scritti che si concretizzarono poi in oltre 130 brevetti nel campo dell'elettronica, medicina, chimica, elettrotecnica, meccanica ed ingegneria. Tra questi ricordiamo Tappo a Corona 1929, Telefono Viva Voce 1934, Radiotelefono 1934, Lancia Missili Bellici 1942, Cambia Dischi Jukebox 1943, Macchinario Elettroshock 1945, Luce Alogena, Telefono Cellulare. Nel 1939 Mussolini gli conferisce il premio di primo grado alla mostra delle invenzioni. Nel 1947, a soli 25 anni, viene nominato Croce d'Oro Lateranense per la Cattedra di Fisica. Dopo la caduta del fascismo, nel 1949, nella mostra nazionale della meccanica, gli venne conferito il premio di primo grado assoluto per un elevatore di tensione di 2 milioni di volts. Nel 1955, a soli 33 anni, viene nominato vicepresidente per la classe Inventori. Ha scritto testi di fisica, matematica, medicina, neurologia, psicologia, sociologia, parapsicologia, teologia, teosofia, biologia, archeologia, antropologia, numismatica. Lidere di una corrente di pensiero realista denominata corrente ergoniana, dalla sigla ERGOS, energia radiante, governante, ogni scienza. L'apparato ottico degli antalidei. Essi sapevano di poter perfezionare il loro corpo, ma tale possibilità la utilizzarono solo limitatamente. All'apparato ottico diedero primaria importanza, infatti per essi i sensi erano essenziali per l'accaparramento dei cogniti e quindi dell'evoluzione soggettiva. Con il tempo i loro occhi furono muniti di tre palpebre indipendentemente sollevabili. Tali palpebre in effetti erano veri e propri filtri che singolarmente si lasciavano attraversare solo da determinate frequenze luminose. Per cui, se tutti e tre gli schermi o palpebre erano abbassate, l'antalideo poteva guardare il pianeta Sole senza esserne danneggiato o disturbato, in quanto la zona centrale dei tre schermi tagliava tutti i raggi violetti, ultravioletti e ultra-ultravioletti, composti da fotoni da massa 1 a massa 4, vedi i cosmitron, inoltre tagliava tutte le frequenze dei raggi infrarossi da massa 7 sino a massa 10. In tale maniera la retina non poteva essere danneggiata. Ma vi è di più. Mentre l'asse ottico veniva così schermato, lateralmente l'immagine poteva essere visualizzata sia pure trasversalmente, non altamente definita, a pallida similitudine delle ribellule, che hanno la possibilità di disattivare gli occhi facenti parte dell'asse ottico pur lasciando efficienti gli altri. l'antalideo poteva così vedere anche contro sole. Se poi la luminosità era ridotta, sollevava la seconda palpebra riuscendo a vedere in piena luce anche al buio, rilevando i fotoni massa 8, 10 riflessi. È noto che la possibilità che noi abbiamo di poter vedere gli oggetti illuminati in mezzo a cui viviamo è dovuta alle radiazioni luminose respinte dall'oggetto in esame. Ora, la nostra retina riesce ad essere sollecitata e quindi vedere solo da fasci luminosi caratterizzati da ritmi di frequenze, comprese tra il viola e il rosso. Tutti gli altri fasci luminosi che sono caratterizzati da frequenze che vanno oltre il violetto a salire o d'oltre il rosso a scendere non sono visive dall'occhio dell'uomo attuale. Ciò però non significa che gli oggetti corporei non rispingono tutti i raggi da cui sono colpiti. La retina del discendente dell'australopiteco, sia noi, non oscilla a frequenze luminose molto alte né a frequenze luminose molto basse mentre quelle degli antalidei oscillavano, se sollecitate, anche da raggi luminosi non visibili dall'homo stercus. A questo punto però accadeva che i grossi fasci di radiazioni luminose a frequenza media, che costituivano la preponderanza delle radiazioni riflesse, si imponevano. In tal caso veniva annullata la possibilità di definire le radiazioni minori. Ecco perché la necessità dei tre filtri o palpebre. Grazie. Grazie. Grazie.